Il confronto tra il sindaco di Gossolengo Andrea Balestrieri e il comitato Regina, sorto per bloccare un insediamento produttivo ai confini del paese, continua dopo che il comitato ha rifiutato un incontro in municipio col primo cittadino che terrà una conferenza stampa martedì prossimo alle 21. Un appuntamento online che potrà essere visibile in streaming. Abbiamo deciso di indire una conferenza stampa e rilanciarla in streaming, con la possibilità che tutti i cittadini la possano vedere, ascoltare, quello che viene detto, per fornire chiarimenti in merito alla questione di questa lottizzazione, di questo ambito produttivo. Sarà un polo logistico o un polo produttivo? Non abbiamo mai parlato di un polo logistico. La logistica pura non deve arrivare a Gossolengo. Non credo sia neanche interesse degli operatori farla arrivare. A noi interessa che ci sia la possibilità di sviluppo per il paese e che venga compatibilmente con quello che è l'ambiente circostante e le prescrizioni degli strumenti urbanistici adottati. Intanto il comitato Regina propone di incentivare insediamenti di carattere digitale per e-commerce, digital marketing, data analysis con spazi di co-working in un'ottica di piena sostenibilità. Grazie. Grazie.